Parliamo con Achille Mazzoleni del pareggio della Ginatese a Treviglio, un pareggio arrivato alla fine, forse la tua squadra però l'ha meritato di più nel primo tempo che quando è arrivato. Sì, penso che alla fine è stata una bella partita, perché comunque è stata giocata, credo a darmi pari, anche se penultimi in classifica, almeno prima della partita, e ci siamo venuti per cercare di portarvi a punti, cercando di aggredirli e di metterli anche in difficoltà senza rinunciare ad attaccare. Penso che alla fine il risultato sia anche il risultato forse più giusto. Quello a me è piaciuto della tua squadra, che nonostante la classifica i ragazzi potevano venire qua timorosi, invece no, se la sono giocata in modo aggressivo, a viso aperto, hanno attaccato, ho avuto occasione. Sì, adesso sono passate ormai sei partite da quando sono venute oggi nate, credo che non a caso stiamo lavorando parecchio e quindi il merito è solamente di questi ragazzi che in grossa difficoltà di classifica e di risultati ci stiamo ritrovando. La strada è quella giusta, credo che anche con parecchi giovani, i under, perché comunque abbiamo finito ancora oggi la partita, credo con due 2006, uno era uscito, però alla fine credo che queste categorie dei dilettanti sono tornate in eccellenza dopo dieci anni. L'unica esperienza l'avevo avuta a Nibionno o Giono, a Nibionno, non a Nibionno, a Nibionno. E credo che sia bello anche per quello, quindi spazio anche ai giovani, anche se alla fine contano i risultati e sarebbe bello arrivarci a mantenere questa categoria con tutte le armi che abbiamo a disposizione, quindi Vecchi, Pizzini, Merli Sala, Giovani, Duca, Brambilla, Tironi. Sono queste prestazioni che danno fiducia a te e alla squadra, per risalire la classifica? Ma sicuramente sì, io penso che è sempre così, quando si è giù bisogna stare zitti, pedalare, lavorare, lavorare, il lavoro paga, il lavoro paga, non è sempre così, il lavoro paga se c'è del materiale, quindi io non ho la bacchetta magica, però ho delle idee, cerco di trasmettere tutto quello che è il mio bagaglio di esperienza, che mi porto ormai da dieci anni da allenatore e ventiquattro da giocatore e cerchiamo di divertirci e di far divertire i nostri dirigenti, il presidente, perché alla fine tutti gli sforzi ogni anno sono loro che li fanno e nei dilettanti, ripeto, non ci sono grandissimi né introiti né sponsorizzazioni, è pura passione e oggi nate l'hanno fatto per parecchi anni in Serie D e ora dobbiamo assolutamente mantenere questa categoria e cercare di mettere in vetrina qualche giovane.